Ciao amici di Teclover, sono Arianna, vi voglio raccontare la mia storia. Una sera stavo a casa senza far niente, stavo a studiare tra la tv noiosa, ho deciso di cercare chi aveva il mio stesso cognome su Facebook. Cercando, cercando ho conosciuto una ragazza, si chiamava Sara. Sara giustamente mi ha chiesto, scusa ma chi sei che mi è giunto così? E io le ho detto, guarda per la curiosità, volevo sapere come mai avevi il mio cognome, dato che il mio è siciliano, strettamente messinese, mi chiedevo come mai, dato che sei di Pisa. E poi parlando, conoscendoci, siamo scambiati il contatto di MSN e lei mi ha detto che ci siamo conosciuti, mi ha detto che il nonno non l'ho mai conosciuto, che ha abbandonato il padre quando era piccola. Invece io le ho detto che anche mio nonno è morto quando ero piccola, ma l'ho conosciuto. Ho utilizzato una foto di mio nonno e lei l'ha fatta vedere al padre e il padre, incredulo, gli ha detto guarda che questo è mio padre. E così siamo trovate e adesso io vado da lei, le viene da me, cugine come se siamo sempre state. E allora ragazzi non vi preoccupate, io in questo modo ho trovato un'amica e una cugina. Quindi se questa storia vi piace, votatemi. Ciao, io sono Arianna e qui su techlover.it Adesso mi metto a dormire che sono un po' stanca, guardate gli altri video. Notte.